L'Università Cattolica, ancora una volta in prima linea per il nostro territorio. Questa volta, focus sulle acque del Benaco e la suggestiva città di Salò è stata scelta come sfondo per il convegno a tema Garda e Cambiamento Climatico. Durante l'incontro, organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche, in collaborazione con la Fondazione Comunità Bresciana, il professor Marzocchi, preside della Facoltà, ha illustrato i possibili scenari futuri dovuti ai cambiamenti climatici in corso. Questo progetto è un progetto che dura da tanti anni. Sono tanti anni che abbiamo avuto l'idea di fare un modello del lago di Garda ad uso degli amministratori locali e anche di ricerca. La Fondazione Comunità Bresciana ha finanziato una parte di questo progetto, il cui oggi relazioniamo, che consiste sostanzialmente in una prima modellazione, in una prima simulazione di quelle che potrebbero essere le reazioni del lago a un clima mutato. Noi non possiamo e non vogliamo prevedere i mutamenti del clima, perché quelli sono a livello globale, però possiamo cercare di prevedere che cosa succede all'ambiente locale quando si hanno degli eventi meteorologici estremi, come delle piene o delle siccità prolungate. E questo è lo scopo per cui ci troviamo qui oggi. Sicuramente l'Università Cattolica riveste un ruolo trainante nel progetto, perché è quella che ha stimolato la partecipazione. Quello che noi vorremmo fare oggi è coinvolgere anche gli enti locali, perché gli enti locali sono anche diretti, interessati al problema in questo caso, non solo dei comprimari, sono quelli che un domani potrebbero beneficiare dei risultati dei nostri studi. La simulazione presentata durante l'incontro è il frutto di un lavoro che prosegue da anni, portato avanti oltre che dal preside, dal dottor Stefano Moret e dalla dottoressa Sara Tomasoni. Si tratta di un lavoro di simulazione che è stato portato avanti in due parti. Nella prima parte abbiamo raccolto dei dati sulla battimetria del lago, che in parole povere è la profondità. Abbiamo preso dei dati a mano, in latitudine, longitudine e profondità su una cartina e tutti i dati dal contorno del lago. Dopodiché abbiamo costruito con questi una griglia di calcolo su cui poi basare le nostre simulazioni. Attraverso le simulazioni siamo andati a vedere come il lago reagisce a certe forzanti, tanti quali vento e portata dei fiumi, quindi in condizioni attuali, con possibilità in futuro di vedere come il lago potrebbe reagire a eventuali aumenti di temperatura da parte dell'aria o comunque anche dell'acqua. Per esempio, per vedere come un agente inquinante si diffonde nel lago, oppure come le alghe si diffondono anche se nell'acqua, questo progetto va a studiare le correnti e la dinamica del lago. L'entusiasta affluenza del pubblico ha dimostrato ancora una volta quanto i bresciani tengano al lago di Garda e quanto si stia tuttora facendo per la sua salvaguardia.